Ve lo dico io, chi è Christopher Nolan? E' un bravo ragazzo che a 28 anni classe, scusate, classe di 1970 e a 28 anni decide di realizzare il suo primo film, The Fall Look che è un ottimo film, un ottimo esordio, molto bene Poi subito dopo decide di realizzare Memento che è un grande film un grande film in cui si vede subito la sua mano la sua, anche maestria volendo quella che tutti vanno paventando ancora fino ad oggi e continua con The Prestige che è un... no adesso devo avere la cosa davanti no, dopo il momento c'è Batman Begins vabbè, c'è Batman Begins, scusate, sbagliate in Batman Begins tu dici già vabbè, ok vabbè, nel Batman ci sta però nel Batman Begins c'è ancora Nolan poi dopo viene Prestige che è un altro grande film grande film di Prestige arriva il Cavaliere Oscuro e dici allora un Batman può un Batman, può esistere un Batman vero un Batman che tu dici ma questo non è Batman è un... è un noir ed è un noir c'è Batman ma va benissimo perché riesce a costruire del bel cinema un cinema che va dal di là delle cazzate per ragazzini un cinema vero, solido e va benissimo perfetto e poi signori lo abbiamo perso nel 2000 controllo ancora nel 2010 è il funerale di Christopher Nolan per dire nel 2010 arriva Inception Inception è un disastro non un disastro dal punto di vista economico perché ovviamente dopo tanti... dopo tutti i Batman dopo tanti momenti dove un po' comincia dopo il Cavaliere Oscuro dopo il Dark Knight comincia subito l'exploit di Christopher Nolan perché i soldi ovviamente agli incassi devo guardare dentro le gambe degli incassi va benissimo ovviamente Inception il problema è che è questo Christopher Christopher ma sto Inception lascia stare guarda non ce l'ho fatta proprio ma cosa andai benissimo il problema è il problema io voglio i soldi di Batman voglio i soldi di Batman però adesso come lo fa la gente ai critici alla persona a prendermi sul serio se faccio ancora Batman devo fare una cosa più articolata più fatta bene più fatta più meglio perché Christopher Nolan sicuramente parla male perché non sa molto ma scherzo ciao Christopher devo fare una cosa una cosa una cosa mi devo dare un tono ecco mi devo dare un tono basta sti cazzo di cose e allora e allora ci sono riuscito ma guarda Christopher non credo proprio te fai le pippe te fai le pippe e quindi a riprova delle pippe grandi le fantasmagoriche pippe che Christopher Nolan si fa arriva Cavaliere Oscuro ritorno e dici vabbè e Christopher che abbiamo fatto? ne parliamo? lo so io però voglio soldi io voglio soldi e li ho fatti quindi va bene con Inception ho voluto fare una cosa un po' più mia però è venuta fuori una cosa mi spiace ho capito Christopher però non lo so io credevo in te che ti metti a fare cose ti metti a fare memento in un film che tu dici ammazza non è un capolavoro della storia del cinema però ammazza un talentone Cavaliere Oscuro anche un talentone un talentone che cazzo è successo che cazzo è successo non è più riuscito la botta di Batman sarà troppo forte e quindi non è più uscito Interstellar parliamo di Interstellar ovviamente che è uscito in questi già due giorni ci siamo già cacati il cazzo di parlarne ulteriormente ma ne continuiamo a parlare perché noi non dico hater noi persone realiste perché siamo noi persone realiste io e Mattia non perché siamo io due capelli scusa siamo persone realiste io e Cinefollia sono persone realiste e non sono persone che guardano al successo e dicono non guarda se è successo smerdiamolo no siamo persone realiste e vediamo che il talento di una persona è sprecata viene sprecata viene buttata a fanculo e invece invece questo fanoman deve recuperare il suo grande talento e deve farci qualcosa che sia all'altezza delle sue grandi qualità gli ultimi fini che sto fanoman sono una pippa è come vedere uno che si sta davanti sta a casa sua davanti sul tavolo davanti a un bel foglio bianco davanti a un bel computer per scrivere la sceneggiatura e sta a fare così ah sì dai allora cioè come se io allora volessi dire no vi faccio una spiegazione se no faccio soltanto l'esebizionista faccio una spiegazione semplicissima io sono devo spiegare una cosa devo dire io ho attraversato la strada ho attraversato la strada e sono andato a prendere il latte ok questo è semplicissimo lui comincia a fare secondo il principio di di grimer io ho percorso sette passi per arrivare all'inquilino all'inquilino a tergiversare verso destra cioè che cazzo vuoi perché ti devi complicare la vita complicare le cose sei veramente un compiacimento nel complicazione delle cose del complicato delle cose la complicazione dei come posso dire non so non sto balbettando non mi sto ci spiegando sto cercando di trovare le parole di inferenza sto cercando un minimo di migliorare questa rubrica perché bisogna per forzare di complicarsi la vita bisogna complicarsi le cose sono delle pippe ti fai delle pippe mentali Inception è una delle più grosse pippe della storia umanità Interstellar è un po' meglio secondo me di è un filino meglio di 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 Inception secondo me Inception una pippa e basta Interstellar è un film interessante senza dubbio però signori però signori perché la prima ora no la prima ora è una palla a stare da lì a fare lo spillback dei quattro sordi il uomo dei sogni col campo del gran turco science ma che cazzo è poi a un certo punto vai sullo spazio e dice va bene ok e non solo io comunque ho scritto giustifico questa cosa spiego questa cosa io su facebook sono stato uno dei ho spiegato su facebook io ho cominciato a paragonare Interstellar da 2001 ma non perché ci vedo delle cose in comune che sarebbero impossibili io cioè l'unica cosa che è più o meno avvicinabile ma più o meno da lontana a 2001 penso sia Wall-E basta perché arriva non a quei livelli ma è sulla scia ecco diciamo della grandezza secondo me possiamo parlare così ma Interstellar vuole essere 2001 nelle ambizioni vuole essere una cosa oltre gigantesca invece in fin dei conti è una pubblicità dell'Enel è un film un film piccolo un film piccolo un film piccolo veramente di una persona che una persona che è triste triste e infelice Christopher Nolan cerca di riprenderti di qual fai qualcosa fai qualcosa e reagisci reagisci sei felice sei felice esci la sera vai a put no non la puttana vai divertiti c'è una moglie c'è un fratello che è bravo c'è tanti amici divertiti sei più felice e soprattutto smetti di essere così noioso rilassati un po' ok bene detto questo io vi do l'appuntamento a martedì sera in cui una delle nostre per una delle nostre live solite di The Craziest ospiti probabilmente ci saranno i ragazzi di Christopher Nolan in Italia in cui poi ci potremo menare un po' probabilmente stiamo ancora lavorando ci sconteremo ci picchieremo malissimo ci vediamo martedì con la live sempre seguiti ci sono The Craziest e buona serata buon sabato e niao